Eccoci, siamo a Pest, anzi, siamo sul ponte del Danubio, dalla parte di Pest, e adesso stiamo guardando il Palazzo Reale di fronte, uno spettacolo indescrivibile, le luci rendono tutto ancora più bello di quello che abbiamo visto oggi pomeriggio, veramente bellissimo, proprio lo spettacolo penso sicuramente da solo, quindi direi che sia poco da dire, veramente bellissimo, uno spettacolo assoluto.